Siamo entrati nella bella stagione, c'è una grande richiesta di manodopera nel nostro territorio da parte del settore della ristorazione e del turismo, si fa fatica a trovare giovani che vadano ad occupare quelle posizioni lavorative. Dal vostro punto di vista il reddito di cittadinanza non è un ostacolo per i giovani per andare a lavorare? I dati di oggi che abbiamo presentato lo dimostrano, sono dati che abbiamo reperito nel tempo, abbiamo messo un pochino a recuperare questa documentazione proprio per avere dati certi e precisi. I dati dimostrano che la percentuale di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che potrebbero essere occupate nei luoghi di lavoro sono una percentuale minima, circa il 2% di nuclei familiari e di persone coinvolte. Io metterei l'accento su due questioni. La prima è la somma veramente esigua che percepiscono che è una media di 535 euro a nucleo familiare, quindi a volte il nucleo familiare è composto da 2-3 persone, non soltanto dal singolo individuo. Quindi mette in evidenza che o le retribuzioni sono troppo basse perché non si può assolutamente vivere con quella cifra in un nucleo familiare e di conseguenza sono retribuzioni che chi le ritiene idonee non ha minimamente idea di cosa vuol dire vivere con quelle cifre e altra cosa è sicuramente le politiche attive che mancano. Questo sì è uno strumento da rivedere per il reddito di cittadinanza che noi dobbiamo puntare e rivalutare perché le politiche attive sono quegli strumenti che permetterebbero a persone che rientrano in questo 2% e non hanno la possibilità di essere reimpiegate perché non hanno le competenze necessarie permetterebbero sicuramente di avere un inquadramento, una riqualificazione e sicuramente una spendibilità lavorativa diversa. Questi sono gli elementi che con i dati di oggi abbiamo messo in evidenza, le cifre che vengono percepite, le politiche attive fondamentali. Altro aspetto che non sottovalutiamo è sicuramente il dato che chi percepisce il reddito di cittadinanza può anche eventualmente svolgere attività nere, grigie o comunque sfruttare questa opportunità. È altrettanto vero che chi lo fa è perché trova un datore di lavoro sicuramente compiacente e che propone un tipo di lavoro di questo tipo. I lavori stagionali del settore del turismo e della ristorazione sono molto difficili, ci sono ancora troppe sacche di povertà e di sfruttamento al loro interno? Assolutamente sì, noi abbiamo un dato evidente alla fine del percorso, molti ragazzi vengono da noi per la disoccupazione e raccontano quella che è stata la loro esperienza. Ci sono moltissimi contratti capestro, moltissimi part-time involontari dove ti metto in regola per tre ore e nei lavori dieci e molte situazioni di difficoltà oggettiva in termini di appunto mansioni svolte perché a volte vengono inquadrati, molte volte la maggior parte vengono inquadrati con livelli inferiori rispetto a quelli che poi ha la professionalità che svolgono all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi questo è un po' quello che noi vediamo e il nostro osservatorio ci rappresenta alla fine di ogni stagione ed è per questo che molte persone cercano una stabilità diversa, una stabilità maggiore e sicuramente un'opportunità lavorativa di qualità. Questo è quello che manca nel settore lavoro di qualità.